Gli aumenti dei tassi di interesse sono conclusi? Ciao ragazzi, ben trovati qui sul mio penale. Speravamo, dopo il discorso di ieri di Powell, di poter avere una risposta. E invece tutti quanti, tranne chi ha sempre la verità in tasca, ma poi sul futuro è veramente impossibile, siamo rimasti con questo interrogativo. Difatti, se qui cerchiamo un po' di notizie, sia in lingua italiana che in lingua inglese, notiamo dei titoli in cui all'inizio apparivano frasi del tipo possibile una pausa, oppure la Fed alza i tassi di 0,25 punti, prepara la pausa nella stretta, e poi vedete qui esempio Milano Finanza va a dire la Fed non ha ancora deciso su una pausa, perché effettivamente i titoli iniziano ad uscire mentre il governatore parla, poi continua ad andare avanti nei suoi discorsi, magari arrivano notizie, dichiarazioni, e quindi possono esserci degli elementi contrastanti. Difatti, prima ha fatto intendere che la Fed potrebbe valutare sufficiente l'attuale situazione, sufficientemente restrittiva, ma in ogni caso nessuno è riuscito a strapparli delle dichiarazioni sulla fine o sugli aumenti. Siamo rimasti nell'incertezza, vedete qui, ha mostrato incertezza sul fatto che ci saranno nuovi aumenti nel prossimo futuro, e quanto saranno e quando saranno, aggiungerei anche io, quindi non si sa bene quello che debba fare. E l'S&P 500, infatti, ad oggi ok, sta mostrando paura anche per tutta l'incertezza che c'è sulla situazione bancaria, tanto le notizie non mancano mai. Poi direi che, insomma, se veniamo da una seconda metà di marzo o un mese di aprile molto positivo, ne abbiamo già parlato qui sul canale, al di là delle statistiche e dei detti, io mi attendevo un po' di prese di profitto in questo periodo di maggio, quindi ci sono tante ragioni sia tecniche sia fondamentali per vedere un S&P 500 un po' deboli in questi giorni. Ma al di là di questo, guardate ieri, il Powell inizia a parlare, l'S&P 500 aumenta e poi comincia a calare, proprio perché da una quasi sicurezza del discorso sulla pausa siamo passati a totale incertezza, non si è voluto pronunciare, non si è voluto veramente esporre. Ma io direi, se anche lui fosse veramente convinto, per questo vi sto invitando ad utilizzare una logica e anche un po' di raziocinio, di equilibrio, Mettiamo caso che Powell sia anche convinto che questo a cui abbiamo assistito sia l'ultimo rialzo dei tassi. Secondo voi, lo avrebbe detto? Sarebbe andato contro le sue intenzioni e contro gli effetti che la manovra stessa di ieri deve sortire. Perché? Perché se io faccio un ulteriore sforzo, lo faccio fare ovviamente all'economia, al mondo finanziario, alle banche che stanno in difficoltà, con un aumento dello 0.25, non posso andare a dichiarare chi è la fine, perché poi quelle dichiarazioni porterebbero gli effetti opposti sul mercato, che cerca sempre di proiettarsi in avanti, avrebbe ignorato quel più 0.25, magari il mercato azionario avrebbe fatto festa, e non vuole, non può, in questo momento, creare entusiasmo, assolutissimamente. Quindi trovo normale le sue dichiarazioni. Anche laddove volesse terminare, poi magari vorrebbe andare avanti, questo non lo sappiamo. Ma adesso andiamo, a breve, a vicinare insieme dei dati che ci mostrano come da settembre il mercato sia convinto che verranno alla luce, diciamo, cominciano a nascere i primi tagli, quindi un'inversione di trend. Intanto ora stiamo vedendo questa fotografia dell'aumento dei tassi di interesse. Vi dico già che è stato un ritmo, forse è nato sorprendente, il più alto dal 1980 ad oggi, e abbiamo raggiunto i livelli che non si vedevano dal 2007. Quindi siamo tornati praticamente a 15-16 anni fa, veramente pazzesco, in un tempo ridottissimo, in circa un anno. Allora andiamo a vedere i Fed Funds Futures, i quali ci mostrano, nelle loro quotazioni, nei loro comportamenti, le visioni del mercato sui tassi di interesse futuri. E andiamo qui a vedere le proiezioni. Io mi metterei qua, su giugno, 89.8%, qui sono convinti, vedete, 500-525 punti. Se noi andiamo a settembre, vedi come ci spostiamo a 475-500 punti per il 46? E come i 500-525 punti di prima siano quasi ignorati, con l'11%, e vi sia anche un'altissima probabilità, fra tutte, no? Quindi era il secondo posto, con 38.1, addirittura 450-475 punti. Quindi il mercato è veramente molto convinto che a settembre assisteremo ai tagli, a un primo taglio, no? E questi poi dovrebbero proseguire. Infatti ci attendono addirittura, per la fine dell'anno, fra 425-450 punti i tassi, e con una percentuale sempre abbastanza alta, addirittura fra 400 e 425. Quindi diciamo che dalla fine dell'estate alla fine dell'anno la Fed potrebbe tornare indietro di un punto percentuale, indietro di un punto. Ovviamente adesso noi abbiamo una doppia interpretazione. Ci sono coloro che vedono questo come molto positivo, perché significa che l'inflazione finalmente sia rientrata, che l'economia non avrà la finanza, eccetera, non hanno più bisogno di questi tassi così alti, quindi un po' più di ossigeno per tutti. Questa ovviamente è la visione positiva, o meglio è la speranza, no? Invece quale potrebbe essere la visione negativa? è quella in cui la Fed sarà costretta a fare questo, quindi l'ipotese diciamo negativa, a causa di una recessione, a causa di una crisi bancaria profonda, o cose simili. Quindi il taglio dei tassi non sarà necessariamente positivo o negativo per il mercato azionario. Se ad esempio il taglio dei tassi, abbiamo detto, non sarà legato a una recessione o a una grandissima difficoltà, il mercato probabilmente farà festa, soprattutto determinati comparti che sono molto sensibili a dei tassi alti, quindi immaginate i tech, small cap, ma anche i trust immobiliari e così via. Quindi questa diciamo è la situazione, dobbiamo aspettare e dobbiamo andare a vedere. Se invece ci sarà una recessione, e quindi dovranno restimolare l'economia, durante le fasi di taglio dei tassi di interesse associati alle recessioni, i mercati azionari vanno giù e trovano il loro bottom solamente quando sono stati effettuati tutti i tagli necessari, nel frattempo il mercato è crollato e quindi poi riavviene la crescita. Questa è la dinamica durante le fasi recessive. Quindi quello sarà molto importante. Andiamo ancora avanti e vediamo che Powell non ha speso nemmeno una parola, cioè ne spese 3-4, perché dice che il sistema bancario è solido e resiliente. Ovviamente mi sto riferendo a parole spese sul sistema bancario. Non è entrato nei dettagli, non ci ha fornito grandi discorsi, ci ha tutti quanti liquidati così. Non vi preoccupate, tutto a posto. Insomma, tutto a posto. Ogni settimana qui salta una banca, più o meno arrivano sempre notizie veramente drammatiche. E allora concludiamo con questa immagine legata, qui ad esempio non ci sono banche diciamo extra-americane, qui siamo nell'economia statunitense, il sistema bancario statunitense. è una fotografia molto importante, perché durante una vera e profonda crisi bancaria, finanziaria bancaria, questa è l'immagine a cui andiamo incontro. Cosa vi sto mostrando? Ogni cerchio va a rappresentare una banca che salta per aria, quindi un fallimento bancario. E per avere un equilibrio, anche dimensionale e quantitativo, ogni cerchietto, diciamo l'estensione, l'area di ogni cerchio va a corrispondere a dei miliardi o dei milioni di dollari, perché è chiaro ci sono banche che hanno dei pesi specifici diverse. E guardate, quindi qui abbiamo una marea di cerchi, cioè quando vi è una vera crisi sistemica, saltano per aria centinaia di banche. Quando invece la crisi non è sistemica, abbiamo due, tre, quattro, cinque, sei cerchi, quindi vi è una grande difficoltà, dobbiamo stare attenti, ma non è una vera crisi. Ecco qual è la differenza. Però, ci stanno almeno due però, il primo è che questa immagine non si va a configurare tutta quanta insieme. E quindi noi, se andiamo qua a vedere il 2022, con questi, 2023, con questi tre grandi cerchi, dobbiamo chiederci, è all'inizio? Come quando un singolo, diciamo un virus, comincia poi a moltiplicarsi, e quindi prima ne vediamo uno, poi due, quattro, otto e così via, e quindi crescono a livello esponenziale. Quindi l'immagine inizia sempre con un cerchietto, quindi all'inizio oppure no. Però, questa è già una grande differenza. Inoltre, qui abbiamo dei visi specifici, molto più grandi, molto più importanti, però, questa cosa sta accadendo 15-16 anni dopo, quindi sappiamo quanti trilioni di dollari in più ci siano in questo sistema, quindi è lecito aspettarsi che le singole banche abbiano in pancia o capitalizzino o rappresentino molti più miliardi tendenzialmente a livello di media rispetto a prima. Quindi, io vi lascio con questa fotografia, sarà il tema che andrà a caratterizzare tanto, secondo me, il prossimo futuro sui mercati finanziari. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, sono molto curioso e se avete apprezzato queste riflessioni, queste informazioni, anche sul taglio dei tassi di interesse, oltre che la fotografia dei fallimenti bancari del sistema americano, beh, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Io, nel frattempo, vi do appuntamento a prestissimo e via con il meglio nella vedaglia di investimenti. Ciao!